In queste impressioni senza nesso, né desiderio di un nesso, narro con indifferenza la mia autobiografia senza fatti, la mia storia senza vita. Sono le mie confessioni. E se non dico niente, è perché non ho niente da dire. Considero la vita una locanda in cui devo rimanere fino all'arrivo della diligenza dell'abisso. Non so dove mi porterà perché niente so. Potrei considerare questa locanda una prigione perché sono obbligato a rimanerci. Potrei considerarla un luogo di socievolezza perché qui incontro altri. Non sono tuttavia né impaziente né banale. Lascio a ciò che sono quelli che si chiudono in stanza, mollementi sdraiati sui letti dove aspettano senza sonno. Lascio alle loro occupazioni quelli che conversano nel salone, da dove le canzoni e le voci arrivano facilmente fino a me. Mi siedo vicino alla porta e imbevo i miei occhi e orecchie dei colori e dei suoni del paesaggio. E canto piano solo per me vaghi canti che compongo mentre aspetto. Per tutti scenderà la notte e arriverà la diligenza. Mi godo la brezza che mi accarezza e l'anima che mi è stata data per godermela. E non interrogo più né cerco. Se ciò che lascerò scritto nel libro dei viandanti potrà, a riletto un giorno da altri, intrattenere anche loro durante il viaggio, sarà un bene. Se non lo leggeranno e non si intratterranno, sarà comunque un bene. Ho chiesto così poco alla vita. E questo poco la vita me lo ha negato. Un raggio di sole, un prato qui vicino, un po' di tranquillità con un po' di pane, che non mi pesasse molto sapere che esisto e non volere niente dagli altri e che gli altri non volessero niente da me. Questo mi fu un negato, come chi nega l'elemosina non per mancanza d'animo, ma per non sbottonare la giacca.